non è vero ma ci credo sta per festeggiare quasi sui cento anni da quando è stato scritto porta alla firma di Peppino De Filippo ma in realtà è opera del teatro dei De Filippo stando al riscontro del pubblico sembra trovare una precisa collocazione nel teatro di oggi e quindi fare questo ponte tra il passato e il futuro attraverso il presente è una grande opportunità così finalmente farai i sogni più tranquilli e non mi scusciamo in te mattina il fatto di mantenere questo teatro storico su cui continuano ad alternarsi compagnie, persone ma soprattutto idee perché una stagione di teatro è soprattutto offrire le idee e poi ho trovato anche in Foggia il suo centro sicuramente abbellito, migliorato, rinnovato l'idea di bellezza circostante può essere forse anche una delle possibilità per uscire dalle tante bruttezze e difficoltà che ci circondano anche in questo territorio per cui il teatro, un teatro che funziona, un teatro della città è sempre un patrimonio enorme per cui che si diffonda sempre tutto Grazie a tutti